Sembra un piccolo paese di presepe, Valgoglio, così arroccato sul monte Salina sotto le creste del Pizzo Pradella. Da lì si domina tutta la valle del Goglio fino a Gromo, un paese ricco di storia e tradizioni, una parrocchia che custodisce ricchezze artistiche tutte da scoprire. L'anno prossimo, il 2011, sarà un anno importante per la comunità di Valgoglio-Novazza, perché si celebrano i 550 anni della fondazione della parrocchia. Il 21 novembre del 1461, il vescovo di allora di Bergamo, Monsignor Giovanni Barozio, ha voluto che questa valle diventasse parrocchia autonoma. Tutto dipendeva da Gromo, che era un po' la chiesa matrice, e quindi il parroco di Gromo, i sacerdoti di Gromo, salivano qui, qua c'erano già le chiese, sia la nostra di Santa Maria qui a Valgoglio, che la chiesa di San Pietro a Novazza, celebravano l'eucarestia la domenica, poi però non c'era né il parroco il residente e nemmeno la possibilità di celebrare i vari sacramenti. Appunto 550 anni fa il vescovo concede innanzitutto il parroco e il viceparroco residente e poi concede la possibilità di avere qui tutti i sacramenti. Saranno celebrati il giubileo della gioventù, degli anziani, degli alpini e delle associazioni, delle famiglie, dei pastori e degli allevatori. La Santa Sede ha concesso per mandato del Papa l'indulgenza plenaria tutto l'anno. Ogni mese, diciamo, il nostro tempo sarà scandito da celebrazioni particolari. La prima sarà il primo gennaio alle ore 18, avremo con noi Monsignor Pasquale Pezzoli, rettore del seminario, che per mandato del vescovo aprirà ufficialmente, durante la Messa Grande della Sera, il giubileo, con l'accensione delle lampade giubilare che verranno portate nelle varie chiese. A marzo arriverà lo stendardo della Beata Vergine delle Lacrime di Ponte Nossa. Anche Ponte Nossa quest'anno è un anniversario importantissimo, 500 anni della lacrimazione della Vergine, e quindi vogliamo un po' unirci spiritualmente anche a quella comunità amica e sorella. Io spero davvero che siano molte le persone che verranno a onorarci per riscoprire un po' questo piccolo angolo di Bergamasca, tanto suggestivo, tanto caratteristico e per me, io dico, tanto bello. Il calendario giubilare è pubblicato sul sito www.valgoglio.eu